Tra il 2020 e il 2021 sono quasi raddoppiati gli infortuni sul lavoro dei giovanissimi marchigiani tra i 15 e 19 anni. Dato, elaborato dal Centro Studi Will Marche, che sale a 3836 se consideriamo tutti gli under 30, cioè coloro più interessati da periodi di stage formativi e apprendistato. Numeri che fanno ancora più effetto dopo la morte delle sedicenne di Monte Urano nell'incidente stradale di Serra dei Conti ed evidenziano che i giovani sono più soggetti a lavori precari e di scarsa qualità. La mancanza di sicurezza sul lavoro è fortemente legata alla precarietà e la precarietà è ciò in cui vivono i ragazzi che si approcciano al mondo del lavoro. Noi non possiamo più tollerare un percorso del genere, serve formazione, formazione adeguata, servono tutele e serve sicurezza nel momento in cui uno entra nel mondo del lavoro. Quindi stage, tirocini, ma anche l'alternanza scuola-lavoro devono essere eventualmente posti in un percorso di formazione e sicurezza. Come è evidenziato nel corso della campagna Zero Morti sul Lavoro, oltre a essere un dramma dei singoli è pure delle famiglie che si trovano alle prese con questo genere di eventi. Per questo la Wille chiede più risorse alla Regione per i controlli sulla sicurezza all'interno delle aziende e di allargare il confronto con il Miurre per l'efficacia dei percorsi di formazione e lavoro. A metà dello scorso anno eravamo sotto la Regione, unitariamente CGL e Cisluil, a chiedere maggiori risorse al Dipartimento Prevenzione perché servono controlli per arginare il problema degli infortuni sul lavoro. Adesso, qualche giorno fa, il Consiglio regionale ha approvato una mozione che impegna la Regione a mettere queste risorse noi però diciamo che ormai ora scossa servono fatti concreti, servono risorse, servono tecnici che possano effettivamente mettere in campo quest'azione che consenta di uscire di casa la mattina per andare a lavorare e tornare a casa la sera.